Un tempo il Natale era una festa molto attesa, pece dai giovani che già a novembre cominciavano a contare i giorni che mancavano fino alla nascita di Gesù. Era un'attesa in cui si rimavano le idee per la buona riuscita, perché il Natale si costruiva in casa, con la famiglia. Un Natale originale, diverso, fuori dagli stereotipi e dal consumismo di oggi. I ragazzi erano i primi a dare inizio alla preparazione del presepe, la base essenziale del Natale, visto che ancora l'albero natalizio non era entrato nelle case. Ed erano proprio i pastori a dare sfogo all'inventiva dei giovani. A Bivongi, nel rione Migliolo, c'era un'area dove si poteva reperire la creta, ma acrita da otimpuni, che veniva scavata, bagnata, pulita, per poi creare i papatoli, i pastori. Ognuno cercava di superarsi per riuscire meglio degli amici. Quell'area oggi non c'è più perché è stata costruita una casa. Poi si passava alla grotta, alla città, alle stelle. Altri impegni dei ragazzi, la creazione degli zufoli di canna, i frischiotta, e quando il suono era difettoso, si ricorreva a Mercurio, un anzianio signore di Bivongi, un mago che offriva la sua sapienza in modo disinteressato. Certamente un Natale molto educativo, dell'inventiva, della programmazione e del lavorare insieme per socializzare. Il panettone industriale non era ancora entrato nelle case, non c'era nel mercato natalizio, e c'era la sola dolceria delle mamme e delle nonne che si affaccendavano attorno ai forni e ai focolari. Da non dimenticare la caratteristica maida, quella utilizzata per impastare la farina. Si preparavano i mastazzola e i pitti e San Martino, con l'ingrediente principe che era il vino cotto. Il miele, rinomato locale, era usato per i pizzicardidi, il vino per i laci e l'olio per le zeppole. Da ricordare le insulle, i biscotti con le mandorle che poche famiglie ancora preparano. Ecco un momento della preparazione. E ancora a Bivongi, in poche famiglie, si conserva questa tradizione delle insulle. Sono biscotti particolari preparati con le mandorle. Ecco la signora Margarita ci spiega come vanno preparati. Questi sono biscotti particolari, ma che facciamo ogni anno nel periodo di natalizio. Sono dei biscotti che si fanno normalmente con la farina che usiamo per dolci, insieme alle mandorle. Oltre alle insulle facciamo anche i mostacciuoli. Questi vengono fatti con la farina, le mandorle e in aggiunta di miele. Noi continuiamo a fare questa tradizione perché la nostra dolceria, casareccia, diciamo, ci è venuta tramandata dalla signora Elia che è mia suocera. E quindi tutti gli anni, finché lei continuerà ad esserci, noi continueremo a lavorare. Per lei e per tutta la famiglia. Ma c'è una particolarità. È vero che mettete queste mandorle come se fosse liquida la farina. Eh sì, per le insulle è un impasto particolare, è morbido, è liquido. Invece per i mostacciuoli no. Viene fatto con l'acqua, la farina, l'acqua e mandorle. Non c'è niente di altro. Solo lo zucchero e nient'altro. Per le insulle, invece per i mostacciuoli, abbiamo il miele. Mettiamo il miele. Il rinomato Moscato di Bivongi era il liquore casareccio usato per i brindisi augurali e non lo spumante. Possiamo dire tranquillamente che i gancia erano all'epoca i nonni o i genitori. Certamente della genuinità del Natale di un tempo rimane poco, perché quando si augurava il Buon Natale, dietro c'era rispetto, amore ed era espresso di vero cuore. Rimane il conforto che ancora oggi il Natale tiene unite le famiglie, anche se tante sono divise da questo tempo di guerra, di terrorismo, di sequestri, di poveri innocenti che coinvolgono molte popolazioni. Cosa dire allora? Cosa augurare se non l'intervento di chi ha creato l'uomo?